Buonasera, benvenuti alla conferenza stampa del General Manager della Roma, Tiago Pinto. Possiamo partire con le domande. Angelo Mangiante, Schaespa. Eccoci, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo tantissime curiosità, Tiago, non so se sei pronto. Guarda, la prima, visto che faremo un bilancio di mercato, faremo tanto di mercato, se era possibile chiederti un titolo stavolta. Il tuo titolo del mercato Roma qual è? Aggiungo un'altra curiosità, che è quello di sapere un ritroscena che non è uscito, che non è stato scritto, non è stato detto in televisione e sicuramente ci sarà un ritroscena di mercato che non conosciamo. e terza e ultima curiosità, perché ne abbiamo tante, poi c'erano anche i miei amici e colleghi qui. La terza curiosità, se c'è stata, qual è stata l'offerta più alta che ti hanno fatto un giocatore della Roma in questo mercato di gennaio? Cominciamo bene. Buongiorno a tutti, come sempre ho detto, mi fa piacere fare questa conferenza stampa, perché non sono uno che parlo tanto, è sempre un'opportunità di chiarire quello che si può chiarire. Su il titolo, sai che tutti noi impariamo tutti i giorni, no? L'ultima conferenza stampa che ho fatto mi hanno invitato a fare la mia votazione, la mia pagella. Io ho imparato che non la dovevo fare più, perché sono stato un po' malinterpretato e così il titolo sarà lo stesso, io faccio il mio lavoro e lascio questo per voi, domani vedrò quello che voi avete fatto di pagella e di titoli. Sulle offerte, io credo che ci sono delle cose che io preferisco non parlare. Sappiamo che il calcio è molto dinamico, ma è sempre la stessa cosa. Sono i giocatori con più rendimento che ce l'hanno le più grandi offerte, no? Lo più importante è che noi, nelle ultime tre finestre del mercato, siamo sempre riusciti a lasciare in casa, a non permettere che i giocatori più importanti andassero via. Sulle offerte, il numero, io preferisco non parlare, ma devo dire che sono soddisfatto che i giocatori più importanti della Roma, nelle ultime tre finestre del mercato, sono rimasti a Roma. E la altra domanda? No, c'è un retroscena qui sul mercato. Ah, sì. No, sai che il mercato è sempre pieno di retroscena, sono tante volte, magari in futuro potrà avere l'opportunità che si possa parlare delle retroscena, ma io ho sempre un po' di paura di parlare di queste cose che sono backstage, no? Ma qua, principalmente in Italia, per me è anche... Continua a essere un momento di imparare e la passione con che i club, i dirigenti, gli agenti vivono nel mercato, gli ultimi giorni del mercato è qualcosa che a me mi colpisce. Devo dire che io cerco sempre di essere un po' più metodico e ci sono delle storie che magari un giorno si può raccontare, ma ancora non è il momento. Posso? Grazie. Posso? Faccio un'ultima domanda, visto che abbiamo toccato un attimo l'argomento con lì, che in effetti nelle ultime finestre di mercato, le ultime tre, non sono stati sceduti dei giocatori importanti, no? Dei big. Mi proietto un attimo verso il futuro in questo caso, visto che c'è stato un rinnovo significativo negli ultimi mesi che è quello di Lorenzo Pellegrini. Se tra i big, i pilastri per costruire il futuro di questa Roma c'è anche Zaniolo e se, visto che è un contratto un pochino di quelli 20-24 da tenere sott'occhio, se come tempistica adesso sarà uno dei primi insomma con il quale vi intavolerete un incontro? Sì, io credo che, mi ricordo che una settimana dopo il fine del mercato estivo, la conversazione è la stessa, c'erano 6-7 giocatori che dovrebbero rinnovare. Io credo, con molta onestà, questo è il momento, dopo tutto il lavoro che abbiamo fatto, questo è il momento del collettivo, questo è il momento di tutti noi, durante i prossimi quattro mesi, aiutare il mister, aiutare tutti i giocatori a concentrarsi sui risultati della squadra, di migliorare il nostro lavoro e di portare a casa i risultati che possano fare tutti noi soddisfatti. L'interesse individuale, è chiaro che il calcio è così, a suo tempo parleremo di tutto, ma in questo momento non è il momento di parlare del mercato estivo, dei rinnovi, di tutti quanti, perché è il momento di durante questi quattro mesi questa squadra, questa famiglia, lottare fino alla fine per tre competizioni che, secondo me, abbiamo anche la possibilità di fare una bella stagione. Pugliese, ringrazio, c'è lo spettacolo. Buongiorno, io le volevo chiedere il voto al suo mercato, ma mi sembra che non ce lo voglia dare, insomma è stato abbastanza chiaro ed esplicito. Fai tu, fai tu, fai tu. No, allora le chiedo, il giorno della presentazione di Morigno, lei disse che avrebbe fatto una squadra degna di Morigno, valida anche per competere per la Champions League. Questo mercato qui di gennaio, secondo lei, ha accorciato le distanze della Roma dalla Champions League o meno? Sì, io credo che in tutte le finestre del mercato il principale obiettivo è migliorare la squadra, diventare la squadra più forte, diventare la squadra più forte, più equilibrata, più questa. Con umiltà riconoscio, e anche il mister ha parlato su questo, che con il mercato che abbiamo fatto siamo riusciti a portare a casa due ragazzi che subito hanno avuto un impatto nella squadra e trovare dei progetti giusti per ragazzi che non giocavano così tanto. Io credo che tutti voi sapete, con l'esperienza che hanno, che il mercato di gennaio è molto particolare, è un mercato che tante volte quello che noi vogliamo è capire quello che manca alla squadra e se siamo capaci di portare a casa giocatori che possano avere un rendimento subito. Io, altre volte, con umiltà, credo che noi alla fine di novembre, dicembre, abbiamo fatto un lavoro molto interessante con il mister, con la proprietà e con il scouting, per capire quello che erano le mancanze dentro della squadra, quello che erano i ruoli che bisogna rinforzare e quello che erano i profili che noi volevamo prendere e dopo credo che abbiamo fatto un lavoro veloce e, per fortuna, i ragazzi sono arrivati e sono subito migliorato la squadra e credo che questo è evidente, anche il mister lo ha detto. Se posso, visto che ha parlato dei due ragazzi, c'è la voglia di riscattarli poi a giugno, Maipan e Sergio Di Vaila? Come ho detto, sui rinnovi, sul mercato stivo, abbiamo molto tempo per pensare su questo. Grazie. Grazie a te. Zotti, il tempo. Buongiorno, direttore. Per lei è stato un mercato particolare perché è riuscito comunque a chiudere due colpi importanti, premente senza liquidità, sono stati fatti due prestiti, uno con riscatto e uno secco. Le volevo chiedere come pensa la Roma proprio di risolvere questo problema in vista della prossima sessione, cioè se magari ci sarà la voglia o l'intenzione di cedere anche qualche titolare per poi andare a migliorare la rosa e comprare titolari migliori, oppure se si continuerà a seguire questa linea, cioè di non vendere i titolari e continuare a comprare giocatori giovani di prospettiva, che cosa pensa, come pensa di risolvere il problema liquidità, se così possiamo chiamarlo. Io credo che una delle cose più belle di questo progetto è il modo allineato come noi lavoriamo. Abbiamo una proprietà che è sempre presente e accompagna tutto il nostro lavoro, abbiamo un allenatore che è stato preso come il nostro direttore di orchestra, che è uno dei migliori del mondo e dove noi abbiamo depositato tanta esperanza e tanta responsabilità e il nostro lavoro è sempre, come ho spiegato prima, ogni finestra di mercato, unire tutti questi pezzi, la parte finanziaria e la parte strategica della proprietà e dopo la parte calcistica dove noi vogliamo essere sempre meglio. Io non ho paura del futuro, io credo che noi in tutte le aree stiamo facendo il lavoro giusto per diventare la Roma un club più forte, anche dal punto di vista economico e io credo che nei prossimi due o tre mesi insieme a Daniel Ryan e con Mourinho faremo quello che abbiamo fatto fino adesso che è stabilire un piano e ho la certezza che a 1 settembre 2022 saremo qua e la rosa sarà più forte di quello che è oggi. Scusi se insisto, questa politica quindi di non cedere i migliori continuerà ad andare avanti o magari qualche titolare ma in maniera funzionale alla rosa di Mourinho potrebbe essere ceduto per fare posto a magari un giocatore migliore? Io credo che la tua domanda è interessante perché riflette un po' quello che è il calcio nel senso che noi dobbiamo fare delle scelte sempre per migliorare le squadre al di là di quello che prendiamo e quello che vendiamo. Tante volte si può anche fare le due cose e diventare la squadra più forte. Lo più importante secondo me è che noi abbiamo gli obiettivi sportivi vogliamo diventare la Roma una squadra vincente una squadra di Champions schelotte per titoli e la prossima finestra del mercato sarà così che lo facciamo. Al di là se vendiamo se compriamo quello che facciamo. Torri. Buonasera Tiago. Buonasera. 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 Credo che gli obiettivi sono stati alcanzati. Nelle uscite, come ho spiegato prima quando i giocatori non giocano secondo me noi abbiamo tre obiettivi per l'uscita. Uno è diventare la squadra più compatta non più questa con magari meno giocatori ma con un ambiente più questo. Dopo cercare il progetto giusto per i ragazzi che potrebbero giocare e recuperare valore. Il terzo è chiaro fare un bilancio fra quello che risparmiamo e quello che spendiamo a rinforzare la squadra. Secondo me anche nelle uscite siamo riusciti a fare quello che dovremmo fare. Magari c'è uno o un altro giocatore che potrebbe fare qualcosa di diverso ma sono genericamente soddisfatto. Per completare ma è vero che Diavara ha bloccato il mercato di un terzo acquisto e seconda cosa che è agganciata chi è stato più vicino fra Camara Grilish Nandez Zaccaria Sono state tutte trattative oppure aggiungo anche Sciaga che continuo a sentire Giomotinio Giomotinio Danilo Sì, volendo si può continuare Possiamo continuare Una puruna Diavara non ha bloccato niente quello che è successo con Diavara è che il calcio tante volte è come il matrimonio per io sposare qualcosa io ho fatto uno ma è finito devo anche imparare da te no ma la verità è che se non ha voglia di tutte le parti le cose non si fanno ma non è non è non è vero non è vero e questo per me è importante da dire non è vero che un terzo acquisto non è venuto perché Diavara non ne ha dato via questo non è vero dopo dire vi chiedo un po' scusa ci sono delle cose che io non capisco e vi devo chiedere scusa e condivido con voi il mio feeling il mio pensiero noi al 12 di gennaio abbiamo portato Sergio Oliveira dopodiché io mister l'ufficio stampa tutti i giorni abbiamo detto che sostanzialmente il mercato era chiuso chiaro che io mister e nessuna persona che pensa può dire che è 100% chiuso perché ci sono 15 giorni può succedere qualcosa e noi dobbiamo reagire e fare qualcosa io a 1 di agosto mai ho pensato che a 15 arrivava qua con Tami ma è successo qualcosa che noi dobbiamo fare noi ripeto non abbiamo detto che erano 100% chiusi perché non siamo pazzi ma abbiamo detto con Sergio Oliveira il mercato è sostanzialmente chiuso dopodiché qualcuno di voi non tutti ma qualcuno di voi è stato Danilo Joao Moutinho Gritlich Schak Camara tutti quanti scusatemi Joao Moutinho per quello che ho capito è stato un scherzo del social media che è diventato notizia dei giornali qualcuno di voi tante volte si lamentano che Tiago Pinto non parla che Tiago Pinto non dice niente del mercato che Tiago Pinto non risponde al giornalista che l'ufficio stampa non parla noi abbiamo trovato una strategia di almeno dire se c'è qualcosa se non c'è qualcosa tutti questi nomi non hanno avuto una trattativa una trattativa è tutto bugia e alla fine quello che è veramente anche Camara anche Camara e se un giorno posso anche spiegare il dossier Camara adesso non lo posso fare perché solo quando voi potete vedere il futuro capiranno meglio ma quello che mi dispiace e volevo che voi potete capire che non voglio essere arrogante sto condivendo e condiviso i miei pensieri con voi quello che mi dispiace è che tutti questi ragazzi che si hanno parlato che mai hanno avuto una trattativa mai hanno avuto una proposta e alla fine qualcuno di voi hanno detto che sono come si dice obiettivi sfumati cioè io non ho parlato una volta su prendere questi ragazzi abbiamo detto tutti i giorni che no non è vero alla fine non siamo riusciti a prendermi e questo su questo io non posso non posso fare niente mi dispiace ma non posso fare niente Balsani ecco buongiorno direttore intanto forse me lo sono perso tra i nomi c'era anche Zaccaria tra i nomi non trattati no no questo è diverso devo spiegare come mai c'è stato un rifiuto da parte di Zaccaria quando è stato cercato perché poi è andata la Juventus e forse aveva già quell'obiettivo oppure c'è stato un problema magari di liquidità o di trattativa questo dimostra che io parlo la verità non ho incluso Zaccaria nell'altro nome ma sai che quando tu cerchi di prendere un calciatore ci sono tanti fattori che che influenziano la decisione non è solo il tuo rapporto con il club e il calciatore il contratto ci sono tante cose alla fine io credo non voglio commentare il caso specifico di Zaccaria di aver andato a Juventus ma io credo che è vero io credo che il passato ho detto anche questo che era un giocatore che il nostro scouting segueva e che noi lo conoscevamo molto bene quello che si può dire è che il scouting almeno il scouting lavora bene magari il direttore sportivo è scarso ma il scouting lavora bene un'altra precisazione su Abram visto il rendimento che sta avendo un rendimento molto alto siete un po' preoccupati per il diritto di recompra del Chelsea no se esiste no lo si il diritto di recompra esiste esiste ma se non sbaglio Daniele qua che mi può aiutare il diritto di recompra solo in 2023 e comincia 2023 ma non sono minimamente preoccupato sono felice perché lui sta giocando bene e ha rendimento ma come mister ha detto io credo che anche lui può fare meglio può diventare anche più forte individualmente in un modo collettivo ma per primo anno in Italia voi sapete meglio da me come è difficile il primo anno di un attaccante in Italia io credo che Tami sta facendo bene ma non mi preoccupa il diritto di recompra del Chelsea grazie a te Dubaldo Corriere De Cosporto Buonasera allora voglio chiedere due cose abbiamo detto che la Roma si è rinforzata indubbiamente si è rinforzata su questo mercato con questi due acquisti funzionali ma c'è una squadra che diciamo sullo stesso era o è sullo stesso livello della Roma si è rinforzata molto di più la Juventus che diventa un avversario più pericoloso nella rincorsa al quarto posto per cui in un mercato comunque indubbiamente fatto bene c'è un'altra squadra che ha aumentato la differenza che c'era prima con la Roma e l'altra cosa che volevo chiedere invece una curiosità sulle strategie ma rispetto all'inizio di quando sei arrivato fate meno attenzione agli algoritmi e lavorate più te l'allenatore sulla scelta dei giocatori oppure l'utilizzo e comunque l'ausilio e il supporto dell'algoritmo per cercare i giocatori è sempre valido come prima la prima domanda io mi devo concentrare sul mio lavoro su quello che dobbiamo fare alla Roma e non tanto quello che fanno le altre squadre io devo pensare nel nostro mercato quello che noi abbiamo bisogno quello che è la nostra strategia chiaro che noi non giochiamo da solo dobbiamo essere sempre attenti a quello che fanno le altre ma io sono uno che non perco molto tempo a riempire quello che le altre fanno su il tema dell'algoritmo io devo adesso ho un po' più fiducia con voi e credo che qualcuno di voi ha fiducia di me verso di me che sanno che io non sono uno che dico della bugia io non capisco dove è andata questo tema dell'algoritmo adesso credo che in Genova in Genova si parla anche dell'algoritmo oggi noi in calcio abbiamo un rischio molto grande un rischio molto grande che è prendere un calciatore sbagliato questo è così spendere soldi e dopo lui non avere performance quello che noi cerchiamo di fare con i ragazzi di scouting con il match con l'allenatore il modo di giocare dell'allenatore con tante informazioni che cerchiamo di status di informazione sociale sui giocatori su tante cose e ridurre il massimo possibile il rischio ma non mai abbiamo preso un calciatore per un algoritmo io ricordo che in gennaio quando 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 sono arrivato ho preso El Sharawi io credo che non era bisogno di un algoritmo per prendere El Sharawi abbiamo preso Rui Patricio non è non ha bisogno di un algoritmo quello che io credo che è importante tante volte no Reynolds quello che tu puoi dire è che magari è una è una scelta sbagliata di un direttore sportivo sbagliato non è un algoritmo cioè quello che io devo fare come direttore sportivo a prendere decisioni è riunire avere la più informazione possibile per prendere la scelta giusta non è che adesso uno possa avere un computatore dove c'è un algoritmo che ti dice che prende questo e prende quello ma non possiamo dimenticare che oggi queste data che dopo è gestito da persone del scouting del staff tecnico sono importanti anche per il lavoro di Mourinho oggi un staff tecnico non è come 20 anni fa ci sono tante persone match analysis GPS tante cose che è così ma non possiamo creare questa idea che se prende un allenatore o che se prende almeno a Roma che se prende un calciatore o prende un allenatore perché ha un algoritmo che ci ha detto per fare così e quando le cose non vanno bene o quando le cose vanno male non è colpa dell'algoritmo è colpa mia è così valdiserri buongiorno lei in portogallo ha lavorato per una squadra che era già da sola una specie di biglietto da visita no non aveva problema che capisse chi era e chi rappresentava se prendiamo quest'ultimo mercato il colpo principale è stato probabilmente Vlaovic che la Juve almeno questo leggiamo si è quasi ripagata con le cessioni di Kulusevski e di Bentancur per cui sicuramente nel mercato una cosa che aiuta molto sono alcune alcuni contatti diretti sicuramente non ha avuto problemi la Juve a contattare il Tottenham di Conte e di Paraticino la Roma in questo senso come è messa è una società che in un ambito di mercato trova tutte le porte aperte alcune aperte alcune chiuse lei appunto che ha lavorato per un club come il Benfica lavorare per la Roma è più difficile? No cioè è diverso lavorare in Portogale lavorare in Italia è diverso lavorare a Roma in Benfica è diverso quello che l'esempio che tu hai dato io ti posso fare ti posso fare esempi diversi non hai bisogno di parlare di Juventus o di Tottenham o di Paraticino ti posso dire che quando io sono arrivato qua Paolo López era in panchina giocava a Mirante magari aveva un valore di mercato di zero dopo ha giocato ha recuperato la fiducia ma si è infortunato il Tiago Pinto alla porta di Marsella con un ragazzo anche giovane forte come Pablo Longoria e abbiamo scelto che quel era il progetto giusto per Paolo López sei mesi dopo uno che un anno fa era in panchina per giocare a Mirante ha rappresentato 12 milioni di euro ti posso parlare di altri esempi no? Under credo che ha fatto 200 minuti in Premier League con il ingaggio che ha abbiamo trovato la squadra giusta e oggi rappresenta 8.4 milioni di euro per la Roma ti posso anche parlare di altri ragazzi che erano due anni che non giocavano come Schorich e oggi almeno giocano o come Clivert che sta facendo bene in Nice il dinaro viene doppio il soldo viene dopo non capisco quello che tu vuole dire con i rapporti perché io parlo con tutti i club quello che conosco quello che non conosco sono anche conosciuto per privilegiare il rapporto con i club magari con gli agenti e secondo me la Roma è un'istituzione molto grande con un potere sociale molto grande e anche se qualcuno non vuole aprire la porta a Tiago Pinto avrà la Roma sicuramente lengua il messaggero buongiorno buongiorno ne faccio una domanda da sì o no può garantire che Zagnò il prossimo anno giocherà nella Roma non posso io né nessuno l'altra domanda invece si riaggancia a quello che ha detto prima perché uscivano nomi dopo che praticamente avete detto che il mercato era chiuso perché comunque ascoltando Murigno sembrava che c'era l'esigenza di un regista almeno mi è sembrato che Murigno comunicasse questo allora le chiedo come mai non è arrivato il regista in due sessioni di mercato tra quella estiva e quella invernale e se è un obiettivo magari per il prossimo anno con una domanda tu hai fatto tre la prima è dire se io non sbaglio Murigno ha incluso detto che il mercato non è chiuso ma io non mi aspetto più nessuno magari sbaglio io come io ho detto secondo me il mercato estiva è molto lontano quello che noi dobbiamo fare questo io credo che con tutte le esperienze che voi avete con tutti i contatti che voi avete dentro del calcio quando finisce il mercato per noi comincia un'altra stagione è una stagione dove tutti noi abbiamo la testa dove la testa deve stare che è in campo e in migliorare tutto che dobbiamo migliorare un po' ricuperando la metafora che ho usato del direttore di orchestra questo è il momento di continuare abbiamo portato più musicisti all'orchestra adesso è il tempo di migliorare gli strumenti migliorare l'organizzazione dei musicisti e andare avanti per creare la sinfonia che tutti i tifosi della Roma meritano e sul mercato della state come ho detto a Zotti che dobbiamo nei prossimi mesi con la proprietà con Mourinho capire quello che vogliamo e dobbiamo fare per diventare la Roma più forte è così grazie a te facciamo l'ultima centro suono direttore buon pomeriggio meno di un anno fa il calcio europeo mondiale in generale denunciava una crisi economica incredibile per colpa della pandemia dopo meno di un anno ci troviamo a commentare il mercato di gennaio più ricco di sempre indipendentemente dalla Roma indipendentemente dalle avversarie da Real Madrid dal Barcellona lei si aspettava che a gennaio ci fossero tutti questi colpi di mercato onerosi o meno e se se l'aspettava come se lo spiega dato che Scaroni del Milan e Marotta dell'Inter in primis ma altri hanno chiesto a chiare lettere al governo aiuti economici pari a quelli degli altri paesi come si spiega la questione in generale non solo da direttore qui a Roma ma in generale da osservatore già dall'anno scorso sì io credo che è vero che che ha avuto delle trattative con molto dinaro è vero ma è anche vero che sono state molte circonscritte nel senso che quello che voglio dire in calcio al di là del tema economico c'è sempre un tema sportivo ci sono dei club che quando hanno dei problemi devono reagire e magari questo provoca questi movimenti che tu hai detto dopo io credo che dopo il covid noi adesso come società stiamo imparando un po' a vivere con il covid in Inghilterra per esempio il pubblico non si è fermato più e chiaro che noi aspettiamo che il mercato si rigenera se va un po' avanti a me non ti posso dire che il trasferimento A o B mi ha sorpreso perché ci sono sempre delle sorprese io aspettavo che si potrebbe movimentare qualcosa ma io credo che nelle prossime finestre del mercato il mercato diventerà un po' più normale a quello che erano gli anni scorsi ma secondo me mai tornerà a tre quattro anni fa quando ci sono stati quelli trasferimenti di Neymar Coutinho Dembélé mi sembra che oggi siamo tutti un po' più equilibrati nella gestione economica del calcio grazie a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti